Il decreto legislativo sulla revisione legale che ha recepito la direttiva comunitaria in Italia presenta una particolarità significativa, il riconoscimento indiretto del ruolo del collegio sindacale. Lo ha detto Raffaele Marcello, consigliere nazionale dei commercialisti italiani, intervenendo al forum Norme di comportamento del collegio sindacale e del sindaco unico nelle società non quotate, promosso dall'Odcec Napoli Nord, presieduto da Antonio Tuccillo. Il decreto legislativo sulla revisione legale che ha recepito la direttiva comunitaria in Italia presenta una particolarità significativa, il riconoscimento indiretto del ruolo del collegio sindacale in Italia che era stato in qualche modo minato dal concetto dell'indipendenza. Possiamo dire con grande vigore e con fermezza che il lavoro del Consiglio nazionale attraverso un discorso di relazioni ha portato il collegio sindacale ad essere legittimato nel ruolo di revisione legale. I commercialisti contribuiscono in maniera determinante al controllo sistematico della revisione all'interno delle aziende, ha evidenziato il presidente Tuccillo, però esprimono viva preoccupazione per l'aumento considerevole delle azioni di responsabilità messe in atto che troppo spesso coinvolgono il patrimonio personale del professionista. Noi vogliamo svolgere un lavoro che abbia delle regole certe e che sia fatto in maniera assolutamente professionale per dare quello che ci viene chiesto, per dare il contributo che ci viene chiesto in termini di revisione e in termini di sicurezza verso le aziende e anche per avere una nostra tranquillità di base. Perché sarebbe auspicabile che un dottore commercialista entrasse in un'azienda in funzione di revisore quando questa azienda è in particolari difficoltà. Proprio in quel momento noi vedremmo un ruolo particolarmente significativo del dottore commercialista. Invece noi dottori commercialisti in quella fase cerchiamo di, anche per timore di quelle che possono essere le conseguenze, cerchiamo di rimanere fuori dalla revisione e dal controllo perché purtroppo le azioni di responsabilità in questo senso sono particolarmente onerose e molto spesso, ma molto spesso, il nostro patrimonio personale viene confuso con l'attivo fallimentare. È opportuno comparare la responsabilità del dottore commercialista, ma in generale del professionista, a quello che è il paradigma, cioè il modello previsto nel Codice Civile. Molto spesso accade che i tribunali eccedano nelle iniziative che contrastano con i professionisti, in particolare i dottori commercialisti, l'organo sindacale, il collegio sindacale, nella speranza ovviamente di rintracciare quelle risorse che servono in qualche modo a soddisfare le ragioni dei creditori. Troppo, soprattutto negli ultimi tempi, ci troviamo in presenza di azioni di responsabilità esperite nei confronti dei sindaci e soprattutto nei sindaci che esplicano anche la revisione contabile, anche in alcuni casi, in molti casi, anche immotivati. Questo è un pericolo che noi come categoria corriamo e un pericolo che purtroppo correntemente e quotidianamente ne subiamo le conseguenze. Quindi è necessario che venga adottato uno strumento valido, uno strumento preciso, uno strumento che venga comunque a limitare quelle che sono le responsabilità, ma non limitare le responsabilità con altri mezzi, ma limitare le responsabilità nel momento in cui l'esercizio della funzione viene esercitata secondo quelle che sono le norme di comportamento del collegio sindacale e dei revisori contabili. L'auspicio e l'augurio che può venire per chi svolge questo lavoro è che possa sempre più partire il messaggio della qualità delle nostre attività, della puntualità delle nostre attività rispetto alle normative di riferimento, magari collegando anche questo a un sistema, tra virgolette, premiale che possa permetterci di limitare le responsabilità quando è dimostrabile, sulla base appunto di quelle che sono le normative di riferimento, che abbiamo agito nel pieno rispetto della normativa e con assoluta dirigenza professionale. Alternativa a quella che sarebbe una modifica di legge di cui io non mi sento lì.